Allora, l'analogia è un concetto che opera, che esiste in tutto l'ordinamento giuridico italiano. Analogia, e in particolare analogia legis, altro non vuol dire se applicare una norma ad un caso non espressamente contenuto nella stessa. Quindi applicare una norma giuridica pensata per il caso X anche al caso Y, che però non rientra nel fuoco della stessa. E quindi immaginate l'ordinamento giuridico che è detta una disciplina in tema di circolazione di biciclette o di motocicli e pensare di applicare questa disciplina anche alla circolazione di monopattini elettrici. La normativa non parla di monopattini elettrici, ma ci chiediamo se possiamo analogicamente applicare quella disciplina anche ai monopattini. Quindi prendere una legge che si riferisce all'ipotesi X ed applicarla all'ipotesi Y. Dunque, nell'ordinamento italiano questa possibilità esiste. L'analogia è uno strumento che a determinate condizioni può essere utilizzato nell'ordinamento giuridico italiano. Nel diritto penale le cose stanno diversamente. Nel diritto penale italiano si parla infatti del divieto di analogia. Divieto di analogia che è stabilito indirettamente dall'articolo 25,2 della Costituzione e dico indirettamente perché l'articolo 25,2 della Costituzione, come vi ho detto, enuncia il corollario della riserva di legge, enuncia il corollario della irretroattività della legge penale sfavorevole, ma non enuncia il corollario della tassatività. Ma per vostra fortuna esiste un'altra norma che invece espressamente vieta il ricorso all'analogia in materia penale, che è l'articolo 14 delle preleggi. Le preleggi sono delle leggi preliminari che furono approvate con lo stesso decreto reggio del 42 che introdusse in Italia il Codice Civile. Però dovete sapere fin da adesso che le preleggi non sono relative solo al diritto civile, ma sono delle preleggi, delle prereule che valgono per tutto l'ordinamento giuridico. L'articolo 14 delle preleggi espressamente recita le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi e oltre i tempi in esse considerati. Quindi l'articolo 14 sancisce il divieto di analogia in materia penale. perché? Per espressione del favore libertatis. Perché vi deve essere la libertà per il cittadino intanto di poter discernere in maniera chiara come sempre illecito dall'illecito. Perché lo ripeto sempre il diritto penale è il diritto del prius non del posterior e quindi il cittadino prima di tenere una determinata condotta deve poter comprendere se la stessa penalmente avrà una rilevanza e che rilevanza avrà o meno ma soprattutto principio di libertà per il cittadino e di garanzia per il cittadino rispetto agli ingiustificati imprigionamenti o comunque abusi del potere giudiziario. perché un potere giudiziario abusivo potrebbe dire sì è vero che la condotta del cittadino alfa non rientra nella legge X ma applicando analogicamente la legge X all'ipotesi Y tenuta dal cittadino alfa io condanno il cittadino alfa ed è questo l'obiettivo che l'articolo 14 delle preleggi mira a scongiurare. l'obiettivo è sempre lo stesso riserva di legge voglio che il cittadino possa subire una sanzione penale solo se viola una legge ordinaria o un'attuamente forza di legge ordinaria voglio garantire il cittadino rispetto a qualunque ingerenza proveniente dal potere giudiziario. dunque un principio stabilito dall'articolo 14 delle preleggi che attenzione non hanno normalmente un rango superiore a quello della legge ordinaria le preleggi sono leggi ordinarie ma all'articolo 14 si attribuisce una sorta di forza passiva rinforzata cioè si dice che non dovrebbe essere possibile modificare l'articolo 14 eliminando il divieto di analogia nella legge penale e quindi tanto per fare un esempio se c'è una legge penale che punisce lo spaccio di una certa sostanza stupefacente e sul mercato italiano viene fuori un'altra sostanza stupefacente non ricompresa tra le sostanze vietate io non posso punire lo spacciatore di quella sostanza dicendo beh ma se noi puniamo lo spaccio della sostanza alfa possiamo punire analogicamente anche lo spaccio della tua sostanza beta sarebbe un tentativo di applicare analogicamente una legge penale incriminatrice come tale mai possibile grazie a tutti grazie a tutti